Il suo è il regno più lungo nella storia britannica e lei è la sovrana più longeva. Auguri alla regina Elisabetta che oggi compie 96 anni. La regina ha deciso di festeggiare il suo compleanno privatamente a Sandringham, nella villetta che era stata di Filippo dopo il suo ritiro dalla vita pubblica. A farle compagnia nel corso del fine settimana saranno figli e nipoti. La sovrana inglese però non vuole festeggiamenti, quelli li riserva al giubileo di Platino il prossimo giugno per i suoi 70 anni sul trono.